La parola a Goffredo Bettini segue Eleonora Cardogna. Cari compagni e amici, grazie di questa occasione, grazie a Gianni che ha fatto una relazione molto intensa politicamente, molto bella e con la consueta intelligenza e onestà. Allora, nella relazione si domanda come rilanciare o reimpiantare uno sguardo critico e di sinistra nella fase aperta con l'impetuoso irrompere di Renzi nella scena politica. La sua iniziativa e la sua ambizione di Gianni aprono anche per me, uomo da sempre di sinistra e post-comunista, un terreno di confronto assai fecondo. E secondo me aiutano il lavoro del Governo ed anche il voto delle europee, di cui non parlerò. Ci saranno altre occasioni per farlo e poi se ne parla a Torino, dove tutti noi siamo un po' con il cuore. Torno invece ad una preoccupazione che ho posto come centrale nel mio contributo all'ultimo congresso. E ciò è che la sinistra, se non vuole diventare un'altra cosa, ha bisogno di una partecipazione consapevole dei cittadini alla Repubblica. L'ultimo voto l'ho sentito come una lancinante sconfitta, perché al di là di una manciata di voti in più rispetto a Berlusconi, dato per morto, in quel voto ci siamo persi più del 50% dell'Italia, che non ha più alcun rapporto con il sistema politico e con le istituzioni democratiche. Questo, secondo me, deve essere il nostro assillo di un grande partito democratico e nazionale. Questo è il nostro banco di prova e questo, io credo, è il problema che, se non risolto, porterà l'Italia al naufragio. Certo, siamo arrivati a questo punto per processi oggettivi, ma anche per i nostri imperdonabili errori. Non parlo degli errori degli ultimi anni. Parlo della nostra incapacità complessiva di cogliere il passaggio storico di Tangentopoli e della fine della Prima Repubblica. Allora, se ne andarono partiti che negli anni Ottanta, lo aveva anticipato Enrico Berlinguer, si erano trasformati in gran parte in macchine di potere e di corruzione. Ma quei partiti, nei primi trent'anni di regime repubblicano, svolsero un formidabile ruolo di rapporto tra cittadini, potere e istituzioni. Svolsero permanentemente, come indicava il terzo articolo della Costituzione italiana, una funzione costituente anche dal basso. Dal 92 in poi, cosa è stato in grado di sostituirli in quel lavoro? In venti anni, zero riforme istituzionali, o poco meno, o poco più. E zero riforme della natura e dell'assetto dei partiti. Ci siamo, ed è stato giusto, concentrati sulla conquista del governo. Ma ci siamo allontanati dal nostro popolo e dalla vita reale. Mentre il nostro avversario, purtroppo, ha lavorato per il potere, ma anche per cambiare la testa degli italiani, i loro costumi, i loro linguaggi, i loro gusti e perfino i loro sentimenti. Vincendo una battaglia di egemonia che non di rado ha ottenuto risultati anche nel nostro campo. Ora siamo spaventati di fronte alla desertificazione che tutto ciò ha prodotto, trastensionismo, grillo e la Lega. Si potrebbe parlare di una sorta di mutazione antropologica, di una lontananza confusa di milioni di persone dalla politica, anche quella buona, e da ogni sorta di memoria, anche quella fondante, la nostra comunità nazionale. Sono convinto da sempre che la scelta dei governi tecnici e il nascondimento della politica dietro di essi non ha aiutato, semmai ha aggravato la situazione. Di fronte all'emergenza non si chiamano i tecnici, si fa appello alla grande politica, se c'è, e alla sua capacità di decisione altamente necessaria nello stato di eccezione. Ecco perché, al di là dei meriti dei singoli leader, era necessario interrompere la mortagora della fase tecnica, con le sue irremovibili oggettività e i suoi intoccabili equilibri. Avrei preferito che ciò fosse avvenuto attraverso le elezioni, ma comunque andava fatto. Può piacere o no, ma Renzi agli occhi degli italiani ha rappresentato questo, il ritorno alla politica, alla decisione politica, al rapporto diretto con i cittadini. Cuperlo ha riconosciuto la forza dell'impatto dal quale per la sinistra è impossibile prescindere, anche perché l'avvio, pur nelle differenti legittime opinioni, è riuscito a realizzare cose importanti, con una rapidità sorprendente. Il taglio dell'IRPEF, l'adesione al Partito Socialista Europeo, e altre cose che sono state anche ricordate qui. Ora Renzi ha una questione decisiva di fronte. Deve districarsi dall'illusione ricorrente dei nostri leader degli ultimi vent'anni. Quella di poter fare tutto da solo e di poter vincere con un riformismo dall'alto. Serve un partito. Ma quale partito? Cari compagni e amici, io sento una grande, basica e semplice esigenza. Quella di tornare alle persone che sono il vero e solo core business che ci deve e ci può appassionare. Abbiamo vivisezionato il centro-sinistra italiano, dividendolo in categorie che appaiono vuote, di puro posizionamento politico e strumentale. Riformisti, riformisti dell'Europa del Nord e quelli mediterranei, centristi e poi quelli centristi che guardano a destra e quelli che guardano a sinistra, poi radicali, radicali di governo e quelli refrattali al governo. Dentro questi nominalismi e le loro fluttuazioni anche noi siamo stati sussunti nella navicella autoreferenziale della politica di oggi. Il punto di vista della sinistra si è inaridito, cosicché la parola sinistra evoca poco in sé, soprattutto tra le nuove generazioni, si confonde tra le varie nomenclature, anche perché in nome di essa si sono fatte anche tante cose non di sinistra. Eppure, eppure nell'animo delle persone c'è un enorme dolore, non solo per nuove forme di povertà, ma per la mancanza di un senso per la vita e per una solitudine che sta diventando la cifra della modernità. allora meno programmi divisivi che si tirano da una parte e dall'altra come quella parte del corpo che non si può nominare. Meno programmi divisivi e più idee di fondo e capacità di cogliere la condizione delle persone e della vita reale. tornando, come diceva Machiavelli, ai principi, alla scaturigine della nostra funzione, al nostro motivo di esistenza, che, come ricordava Pietro Ingrao in un carteggio con me recentemente pubblicato, non è tanto un dovere essere, una scelta stratta, ma è l'insopportabilità che si prova di fronte all'oscenità dell'ingiustizia, la ribellione del nostro essere di fronte ad essa e dunque l'incessante lavoro da compiere per ribaltare il rapporto di forza tra chi sta sotto e chi sta sopra. Ecco perché parlo da tempo di un campo di tutti i democratici. perché possiamo tornare a questi principi solo se sbaracchiamo tutti gli accampamenti politici dal centro-sinistra, da anni in lotta tra di loro e oggi funzionali alla pura conservazione di gruppi dirigenti ormai logori. E se sbaracchiamo le mille correnti, tutte le correnti, senza principi, che ci abitano e che sono pure aggregazioni cangianti e spesso contraddittorie al loro interno. Un campo democratico che vada a calcomania sulle persone, che le metta in rete, le faccia incontrare e decidere. Le tiri cioè fuori dal loro muto distacco e dalla loro rabbia, definita erroneamente antipolitica. Ma quando dico decidere non mi riferisco solo alle elezioni delle cariche di partito o di governo, le cosiddette primarie. Intendo la possibilità attraverso primarie delle idee di decidere anche sulle scelte più importanti che riguardano l'Italia. Finisco. La politica è un esercizio di un potere, sempre. E c'è la necessità tanto di una potente cessione di sovranità verso il basso quanto di un'autorevole, rapida e coraggiosa iniziativa e sintesi proveniente dall'alto. Un campo dunque contendibile, perennemente in movimento, che mischi le persone le combini in modo diverso. E' lì, secondo me, in questo mare aperto, che la scintilla, lo sguardo della sinistra, deve giocarsi la sua egemonia. Deve vincere le sue battaglie sui contenuti e le scelte, non riducendosi ad essere, come è stato detto, minoranza di una maggioranza, ma lievito di un campo di democratici che comunque intendono nei loro diversi profili riparare il grande errore della politica del Novecento, quella di aver sacrificato alle ideologie le vite umane. Non ci uniscono, infatti, a noi del PD, le storie della Margherita o dei DS. C'è qualcosa di molto di più nelle nostre fondamenta, la sintesi tra l'umanismo socialista e il personalismo cristiano di Maritain che dialogava con un radicale americano come Alinsky e quelle parole di Marx sulla nazione che allontana i lavoratori dalla loro stessa radice umana rendendoli cose. Sarebbe un sogno di partire da lì, uscire dalle gabbie delle attuali canne d'organo che costringono uno come me a stare con Fioroni e ci voglio stare, ma a dividermi da vendola con cui avverto qualche lontananza ma anche tanta sintonia. La sinistra torni dunque alla vita reale e si giochi il suo avvenire nei flutti della storia di oggi e non dentro i simulacri del passato tenuti in vita per vivacchiare e non per osare. Grazie. Grazie. Applausi Grazie. Applausi Grazie. 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 Grazie.